Proteste indigenti, incontro ieri con il commissario Rizza, proposto bando per 60.000 euro, ma i manifestanti non accettano. Proteste indigenti, continua la mobilitazione della politica e i servizi sociali diventano tema caldo in vista delle elezioni. Perché invece non scegliere il silenzio? Precari comune di Comiso, altra novità in vista, la proroga deve essere inserita nel piano del personale. Pedalino, lavori in corso interrotti nelle vie cittadine, le strade sono piene di buche con l'asfalto scarificato. Vittoria, nuovo bando per le zone blu, fino al 4 febbraio i parcheggi saranno gratuiti, la ditta che vincerà e gestirà il servizio per tre anni. Edizione unica del nostro telegiornale, benvenuti. Non si fermano gli indigenti che protestano davanti il comune di Ragusa, nonostante le rassicurazioni avanzate ieri dal commissario Rizza, hanno deciso di continuare il loro presidio. Sentiamo allora le ultime novità nel servizio. Una graduatoria per decidere chi usufrirà del sussidio comunale è quanto proposto dal commissario Margherita Rizza per risolvere la questione indigenti. Ma i manifestanti non ci stanno e continuano il loro presidio permanente davanti Palazzo dell'Aquila Ragusa. Ieri pomeriggio si è svolto il tanto atteso incontro tra il commissario e una delegazione di manifestanti. Nella mattinata alcuni di loro avevano già incontrato i capi gruppo consigliari al comune a cui avevano spiegato le ragioni della loro protesta. Dalla Rizza è arrivata la notizia dello stanziamento di 60.000 euro per gli indigenti. Un mando pubblico definirà i criteri per avere diritto al contributo economico. Dunque ognuna di queste persone conoscerà il proprio destino consultando la graduatoria che dal comune prepareranno che indicherà i beneficiari del contributo e la rispettiva entità. Ma gli indigenti restano insoddisfatti. Molti di loro hanno infatti paura di essere tagliati fuori e a quel punto non avrebbero più nulla da fare. Il commissario straordinario ha poi assicurato agli indigenti che c'è un preciso impegno dell'amministrazione a valutare altre soluzioni che consentirebbero di avviarli al lavoro o attraverso le cooperative sociali di tipo B o attraverso l'inserimento nei bandi di lavori, servizi e forniture di condizioni per esigenze sociali o ambientali che prevedono l'assunzione di personale tra le fasce svantaggiate. Previsto a questo proposito nei prossimi giorni un incontro tra la stessa Rizia, il dirigente del settore servizi sociali e i rappresentanti delle cooperative sociali di tipo B per verificare insieme a loro le possibili iniziative da poter intraprendere. Infine è convocata per stamattina una conferenza dei capigruppo urgente a cui parteciperà lo stesso commissario per discutere della vicenda. Ma come detto gli indigenti chiedono maggiori sicurezze, non ci fermiamo dicono perché in ballo è il nostro futuro e quello delle nostre famiglie. E in tarda mattinata dal comune di Ragusa è arrivata la notizia che nei primi giorni della settimana prossima sarà pubblicato il bando che disciplinerà i criteri per l'assegnazione di un contributo economico agli indigenti. Inoltre è stato fissato per oggi pomeriggio l'incontro con i rappresentanti delle cooperative sociali di tipo B per verificare quali iniziative potranno essere realizzate per dare un lavoro a coloro che si trovano in particolari situazioni di indigenza. Nel corso delle prossime edizioni vi forniremo ulteriori aggiornamenti. E lo sapete, la protesta degli indigenti sta animando anche la politica ragusana. Da ogni fronte si assiste ad una mobilitazione sulla scena pubblica e soprattutto mediatica da parte dei vari esponenti politici. D'altronde, lo dicevamo ieri, in vista delle elezioni amministrative ogni occasione utile per far parlare di sé. Soprattutto la tematica dei servizi sociali che colpisce al cuore della gente. Sentiamo. Continua l'anni rivieni sul palcoscenico mediatico ragusano. Dopo il presidente provinciale di territorio Sbezzi, a cui ha risposto il consigliere del PD Lauretta, dopo l'ex assessore ai servizi sociali Barone, seguito da un altro ex esponente di giunta, la migliore, dopo i rappresentanti di associazioni varie, a cavalcare l'onda sono oggi due consiglieri di maggioranza passati a territorio, Galfo e Occhipinti. Quella degli indigenti è diventata, insomma, per gli esponenti politici iblei, non importa se è in caduta o in ascessa politica, l'occasione buona per far parlare di sé. In fondo, nelle ultime settimane, quella dei servizi sociali è stata una questione molto in voga, diciamo così, nel dibattito ibleo. Non appena dal comune avevano parlato, infatti, di tagli, sono stati alzati i primi baluardi a sostegno dei servizi sociali. Poi c'è stata la questione Artai, l'associazione che si occupa di assistenza ai disabili, a rischio chiusura. Il caso ha appassionato un po' tutti, da ultimi il presidente del Consiglio di Noi e il consigliere Firincelli, entrambi espressione della maggioranza, tutti ad ergersi difensori dei diritti dei più deboli. Dopo l'Artai è stata la volta della consulta comunale del volontariato, proposta dal consigliere Di Mauro, guarda caso anche lui espressione di maggioranza. Insomma, un continuo parlare e parlare di servizi sociali e di assistenza ai più deboli e svantaggiati. Ma stupire più di tutto e soprattutto il fatto che i protagonisti di questo dibattito siano soprattutto esponenti vicini all'ex primo cittadino o uomini, vedi barone, che fino a qualche mese fa amministravano la città. Insomma, da quale pulpito viene la predica? Perché invece di scegliere la strada dell'esame di coscienza, visto che risulta improbabile che l'attuale situazione in cui versano i servizi sociali sia solamente risultato degli ultimi mesi di amministrazione, questi consiglieri continuano a proferir parola? Perché invece non chiedersi quanta responsabilità ha la passata amministrazione e quindi il suo consiglio e la sua aggiunta dell'attuale stato di fatto? Cosa poteva essere evitato e cosa invece poteva essere fatto? Possibile che l'imminente appuntamento col voto faccia così tanta paura alla maggioranza abbandonata se, dopo l'addio del proprio mentore a luoghi più sicuri, da spingerla ad approfittare di ogni occasione per poter comparire sui media? Galfo e Occhipinti dicono di lavorare in silenzio, ma a noi questo silenzio, loro come quello di tutti, appare fin troppo rumoroso. Restiamo al comune di Ragusa, dove il commissario Rizza ha stabilito la definitiva pianta organica dell'ente. Importanti novità riguardano in particolare l'accorpamento di alcuni settori. La spending review colpisce ancora al comune di Ragusa. Vittime stavolta sono alcuni settori dell'ente di Corso Italia. Il commissario straordinario Margherita Rizza ha infatti nei giorni scorsi reso noto alcune novità per quanto riguarda i dirigenti, ma non solo. Con l'arrivo del nuovo anno si spera dunque di poter porre la parola fine ad una questione, quella appunto delle nomine di dirigenti, di cui si è discusso tanto negli ultimi mesi. Questo allora è il nuovo assetto stabilito dalla Rizza. Francesco Lumiera, capo del primo settore Affari Generali, Rosario Spata, ex comandante dei Vigili Urbani, passa a guidare il secondo settore, gestione e sviluppo delle risorse umane e gestione e affari patrimoniali, consulenza, appalti, gare e contratti. Cettina Pagotto resta al momento, in attesa dell'espletamento del concorso, a capo del settore contabile. Michele Scarpulla ricopre dal primo gennaio l'incarico di dirigente del quinto settore, decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutturale e ad interim anche quello del settore a sette uso del territorio centro storico dopo il pensionamento di Giorgio Colosi. Giulio Lettica guida il settore Ambiente, Energia, Protezione Civile e Verde Pubblico che quindi accorpa i settori, prima distinti, Ambiente e Verde Pubblico. A capo del settimo settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio c'è invece Santi Di Stefano, mentre Alessandro Licitra torna a guidare il settore Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Politiche Educative e Asili Nido. Infine il corpo della Polizia Municipale guidato da Giuseppe Puglisi, neo-vincitore di concorso, che si presenterà ufficialmente il prossimo 21 gennaio. E adesso la vicenda dei dipendenti precari di Comiso. Come sapete il Ministero ha bloccato la firma delle proroghe. Infatti a causa del dissesto finanziario sarà necessario il parere della Commissione Stabilità Finanziaria. Inoltre c'è un'altra novità. Sentiamo. Niente proroga al momento per i 48 precari del Comune di Comiso. Durante il confronto di ieri tra l'amministrazione e i lavoratori sono emesse alcune novità che impediscono la firma dei provvedimenti. Dal Ministero dell'Interno è arrivato il parere negativo. Ci vorrà infatti il nulla osto del di Castero perché l'ente di Piazza Fontediana è un comune indissesto. Bisognerà aspettare infatti metà gennaio per conoscere questo parere e sperare che sia positivo. Inoltre ecco spuntare un altro capillo. La proroga in questione infatti deve essere prevista nel piano triennale del fabbisogno del personale dell'ente munito dal parere dell'organo di revisione dei responsabili dei settori del personale finanziario i quali dovranno spiegarne i motivi. La pianta organica del Comune dopo la dichiarazione del dissesto finanziario è stata ridotta di circa 50 unità. I posti liberi sono 12 e mezzo che potrebbero essere coperti con 25 assenzioni part-time. Ma la CGL che ha rappresentato le stanze di questi 48 dipendenti, nonostante il parere vincolante e preciso arrivato dal Ministero, non si rassegna e ritiene che il parere della Commissione Stabilità Finanziaria e Enti Locali non sarebbe dovuto. Dunque per adesso i 48 ex COCOCO resteranno a casa. L'auspicio è che la Commissione del Ministero si riunisca entro la metà di gennaio per fornire il parere e dare il via libera alle proroghe. Ma la situazione, come detto, è imbilico e non c'è alcuna certezza. Nell'attesa, in questi giorni i dirigenti predisporranno le determine sulla base delle esigenze di personale dei singoli settori. Oltre alla trafile istituzionale e burocratica, si aspetta entro la fine del mese la sentenza del Giudice del Lavoro che si esprimerà sulla possibilità di reintegro. I precari fanno leva sulla clausola di prestabilizzazione inserita nei contratti triennali firmati nel 2010 e che sono scaduti il 31 dicembre scorso. E adesso la cronaca contro gli intensificati del territorio ebleo da parte dei carabinieri di Ragusa, soprattutto dopo la rapina ai danni della filiale delle poste di Santa Croce. Un giovane è stato arrestato mentre un altro è stato denunciato. Sentiamo. Arrestato dai carabinieri di Ragusa, un ragusano 21enne è accusato di tentato furto aggravato di un'autovettura. Il giovane, pluripregiudicato, è stato fermato in occasione degli straordinari servizi di controllo del territorio predisposti dai militari dell'arma dopo i recenti fatti di cronaca. In particolare, dopo la rapina ai danni dell'ufficio postale di Santa Croce Camerina, sono state coinvolte diverse pattuglie indivise in borghese del nucleo operativo radiomobile e della stazione di Santa Croce che ha coinvolto 30 carabinieri. Denunciato inoltre a un cittadino di nazionalità romena di 29 anni per ricettazione di circa 100 litri di carburante, mentre ad un cittadino extracomunitario di 33 anni, pregiudicato senza fissa dimora, è stato notificato un provvedimento di esecuzione di pena detentiva. Controllate infine decine di persone di veicoli ed elevate varie contravvenzioni al codice della strada. Bilancio di fine anno per la Guardia Costiera di Pozzallo, tante le operazioni e i controlli effettuati per garantire la sicurezza dei bagnanti e contro l'inquinamento delle spiagge e del mare. Bilancio dell'attività svolta nel 2012 dalla Guardia Costiera. A conclusione dell'anno, la Capitaneria di Porto di Pozzallo ha diffuso i dati essenziali delle attività istituzionali svolte nelle diverse operazioni complesse, effettuate sia a tutela di tutta la filiera ittica che dei bagnanti e degli usi pubblici del mare nel periodo estivo. Ultima in ordine di tempo l'operazione Mekong con 124 controlli effettuati a mare e a terra, di cui 48 ristoranti, 51 pescherie, 10 grandi centri di distribuzione commerciale, 2 sul mercato ittico di Scoglitti, 13 presso i 5 punti di sbarco presenti sul territorio. Il totale delle sanzioni amministrative elevate è stato di circa 11.000 euro ed è ancora l'operazione Mare Sicuro 2012 in estate con 15 persone soccorse o salvate, 4 verbali per illegiti amministrativi, 253 stabilimenti balneari controllati. Nel corso dell'anno sono state anche effettuate ulteriori verifiche e controlli ambientali nei seguenti settori, controlli e accertamenti sulle operazioni portuali e le altre attività commerciali e industriali in relazione ai rischi di natura ambientale connessi a tale attività, imbarco e trasporto marittimo, sbarco e reimbarco delle merci pericolose e inquinanti, controllo e repressione degli scarichi abusivi e dell'abusivismo edilizio sul demanio marittimo con un continuo aggiornamento della localizzazione e mappatura degli scarichi esistenti e delle occupazioni abusive, sorveglianza per la prevenzione degli inquinamenti da idrocarbure ed altre sostanze nocive dell'ambiente marino, portuale, costiero e delle aree marine protette nonché l'accertamento delle relative infrazioni ed ancora monitoraggio delle operazioni di dragaggio e scarichi in mare e in ambienti adesso contigui dei materiali provenienti da escavo di fondali di ambienti marini o salmastri o di terreni litorani emersi nonché da ogni altra movimentazione di sedimenti in ambiente marino. Un tunisino trentenne ieri pomeriggio è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco alle gambe. L'episodio si è verificato all'ingresso di punta a braccetto. I colpi sarebbero partiti da un'auto in movimento che subito si sarebbe dileguata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Santa Croce che stanno ancora indagando sul caso mentre l'uomo, un bracciante agricolo, è stato subito accompagnato all'ospedale civile di Ragusa dove è ricoverato. Le sue condizioni non sono gravi. C'è la pubblicità. A tra poco.